Sì, sto bene fisicamente, lavoro tutti i giorni per fare queste prestazioni e spero di continuare così. A volte ho un po' di pause mentali, poi mi riprendo, ho avuto un periodo un po' in calo, spero di continuare così. Io sono questo giocatore qua che corro 90 minuti, butto l'anima in mezzo al campo, poi ci sono partite che a volte, l'ho detto, ho avuto un po' una pausa, però mi sono ripreso. I miei amici, il mister che mi ha dato fiducia che mi fanno entrare sempre, anche quando non ho giocato, la mia ragazza che dice non ti preoccupare, restare sereno, spero di fare qualche gol, prende solo traversa e pallet. Però non fa niente, spero di fare i gol più importanti. Sì, sì, il mister fiducia in me, io cerco sempre di ripagare la fiducia che mi dà. Poi ci sono partite che ho detto, a volte il campo è brutto, poi a volte gioco io un po' sotto tono, devo migliorare questo aspetto qui e lavoro ogni giorno per migliorarlo. Auguro di buon Natale a tutti i tifosi di Bari e spero che trascorrete un Natale pieno di felicità e gioia.